Vi porto a vedere questo immobile in questo quartiere di tutte ville singole dove regna la tranquillità. Eccoci qua, entriamo per visionarla. Come vedete i lavori devono essere ultimati ma è già in una fase molto avanzata. Soggiorno con il suo cammino, sala da pranzo, vi faccio vedere anche all'esterno perché c'è un bellissimo porticato dove si può tranquillamente collocare un salottino. Cucina abitabile dove abbiamo l'accesso esterno, anche qua possono mettere il tavolo con le seggiole per poter cenare e pranzare fuori. Saliamo nel reparto notte che secondo me è uno dei più bei reparti noti che si possono avere. Ah, dimenticavo, qua abbiamo un piccolo studio, vediamo che le scale e la ringhiera sono di una certa importanza. Arriviamo nella prima camera matrimoniale, primo bagno, qui troviamo la seconda camera matrimoniale con il suo balcone. procediamo con la terza camera e il secondo bagno del reparto notte. Perché non è ancora finita, vi faccio vedere il seminterrato. Qua abbiamo un garage doppio, taverna, anche questa è una ristrutturazione di Dreamora. Grazie. Grazie.